Benvenuti nel Dungeon delle Barbe Pensanti, io sono Filosofia. Kim Bird e questo è il Dungeon Bird Podcast. Esattamente, lui è più bravo di me con la pronuncia. Ci speriamo, anche qui siamo super tranquilli, quindi ammettiamo l'errore alla grande e prenderemo un sacco di critiche. Benvenuti nel nostro Dungeon, primissima puntata, abbiamo fatto la puntata zero dove vi abbiamo presentato il progetto. È breve, quindi ve la potete riascoltare e lì scoprirete tutta la nostra visione di questo podcast, dove non ci vedrete, ma sentirete solo le nostre voci. I nostri pensieri, le nostre barbe. Non so se si sente il rumore della barba sul microfono, però comunque immaginatevela. Sono loro che parlano per noi, insomma, come dei rami che ci prendono le nostre idee. Comunque, oggi abbiamo una puntata che ci ricollega all'origine mia e di come mi sono conosciuto con Finking Bird, ovvero Magic, che è il collante. Il gioco di carte collezionabile più famoso al mondo, più giocato al mondo. Il nostro argomento per rompere il ghiaccio, esatto. Un gioco di carte che negli anni 90 è apparso e non se n'è ancora andato, insomma. Probabilmente è quello che ha resistito di più, è quello da cui hanno copiato tutti, anche se non la mia. Assolutamente. Ed è rimasto in carta, mentre tutti... A me, anche altri sono rimasti, Pokémon, Yu-Gi-Oh! eccetera. Però mantiene carta e digitale, insomma. Comunque, se non mi conoscete, mi conoscete solo grazie a questo podcast, io ho un canale YouTube dove porto contenuti, video di gameplay o informazioni riguardante Magic, per lo più digitale, Magic Arena. E diciamo che è il mio gioco preferito di carte. Esatto, ma è successo qualcosa in questo gioco che ci porta ad usarlo come escamotage per creare questa puntata. Eh sì, perché Magic vuole diventare pop, vuole diventare conosciuto a 360 gradi. Esatto, se ancora non lo conoscete, probabilmente nei prossimi mesi, per qualche motivo, magari lo verrete a conoscere, proprio grazie a queste novità. Farei una piccola digressione, perché tutto è iniziato con Ikoria, che era un set uscito l'anno scorso, un'espansione, Magic funziona così, ogni tot mesi esce un set di centinaio di carte ambientate in un mondo, nell'universo di Magic, diverso, con meccaniche diverse. Esatto, esatto. Ikoria introduceva un concetto di arti alternative delle carte, ovvero c'era la carta originale e poi c'era la versione alternativa da collezionismo, che era differente dall'originale e rappresentava Godzilla e i vari mostri del franchise di Godzilla. Esatto, perché ricordiamo che appunto Magic è passata, adesso non so quando, sotto Hasbro e quindi sicuramente tutto ciò che fa parte del mondo Hasbro, che comunque è un'azienda con una visione più grande e quindi sicuramente vuole fare soldi anche utilizzando collaborazioni con più marchi. Esatto, e poi da lì sono cominciate a spuntare vari tipi di collaborazioni, una delle ultime è con The Walking Dead. Assolutamente. Hanno fatto un pacco speciale di 5 carte originali ritraenti i personaggi della serie TV. Esatto, che noi non ci fermeremo sulle discussioni e regole del gioco che queste carte hanno portato come impatto, ma alla volontà di prendere per la prima volta un brand completamente esterno e di forzarlo nel gioco a modi pubblicità. Insomma, prendiamo qualcosa che vi piace tantissimo, non ci conoscete, lo portiamo nel nostro gioco, così prendiamo il pubblico che non ci conosce e il pubblico che ci conosce, ma che ovviamente è fan anche del marchio che siamo andati a prendere. Esatto. E lo sta per rifare, ma molto più pesantemente. Sì, perché questo è stato solo l'inizio di un cambiamento di rotta, un'espansione, perché prima Magic rimaneva nel suo orto, aveva il suo multiverso e i suoi seti, i suoi personaggi si muovevano in questo. Il suo mondo complesso, ma a suo originario scritto da loro, insomma, quindi non c'era un'influenza esterna. Adesso invece arriverà l'universo espanso, ovvero Magic ogni tanto sconfinerà in altri, come possiamo chiamarli, mondi, in altri franchises. Sì, sì, altri brand. Questa volta non più con cinque carte, ma a quanto pare sicuramente con cose più pesanti. E sempre per non limitarci al gioco di carte, andremo a capire, anche per appunto portarvi altri due contenuti con la scusa di Magic, che cosa andrà a fare. I due brand sono Warhammer, e dopo spiegheremo anche quale parte di Warhammer, e questo è un marchio che magari non conoscete, perché è più di nicchia, ma è l'altro sicuramente molto più grande ed è il Signora degli Anelli. Eh sì, il Signore degli Anelli, chi non lo conosce. Oh, questo. Perché Warhammer? Perché? Perché Warhammer? Perché probabilmente, non so quando hai iniziato a giocare tu, Thinking Bang. Appena Magic è apparso nei negozi. Ecco, diciamo agli anni 90, Magic e Warhammer erano venduti dagli stessi negozi e andavano a braccetto, perché avevano lo stesso target sostanzialmente. Assolutamente, se ricordo bene, la volontà del negozio era di essere un Games Workshop, che è la marca di Warhammer. Diciamo che il negozio Games Workshop era più potente di un altro negozio e quindi anche Magic sicuramente aveva più probabilità di vendere. Perché il negozio non era solo vendi la carta, adesso ce li abbiamo ancora questi negozi, non siamo più abituati magari a frequentarli sia per pandemia sia per età, però non è un negozio come tutti gli altri. È un negozio dove puoi andare a giocare, dove trovi i tavoli, trovi gente. Sì, nella mia zona c'era una catena di due o tre negozi che si chiamava Centro Gioco Educativo e riassumeva un po' che tipo di negozi erano, perché trovavi tutti i vari giochi da tavolo, dal Monopoly a Dungeons & Dragons, tutti i vari giochi di legno ad esempio, carte, i giochi quelli scientifici, non so se sei presente. Ecco, in questi negozi qui si trovavano uno a fianco all'altro Warhammer e Magic. Esatto, se ne andavano a braccetto di fatto, perché spesso poi capitava insomma che uno o li faceva in parallelo o poi doveva smettere uno per l'altro, perché entrambi non erano sicuramente di, non erano piuttosto dispendioni. Non erano per niente economici. Ovviamente Warhammer è un gioco, si divide in fantasy e futuristico, mentre non abbiamo detto che Magic è un gioco fantasy a tutti gli effetti, quindi orchi, draghi, maghi. Di fatto siete due maghi che vi lanciate delle magie in faccia o delle creature. Warhammer può essere anche futuristico, diciamo, ed è un gioco totalmente diverso, non è di carte, ma è di miniature. Ecco, lo chiamerei il gioco da tavolo sostanzialmente, dove tu ti fronteggi con un altro giocatore e con il tuo esercito. Esatto. E il tuo esercito è composto da miniature di varie unità che tu devi comprare, assemblare, colorare. C'è tutto un lavoro da fare in guana, ma è anche quella probabilmente la parte bella del gioco. Poi ci sono delle regole che ammetto che non conosco bene. Le regole variano, come Dungeons & Dragons, anche loro continuano a variare, ma di fatto sono due grandi eserciti. Il succo del gioco è che per stabilire la parità di esercito tu hai un libro che ti spiega per filo e per segno la razza che hai scelto, e si decide a quanti punti giocare. Io spero che ancora oggi sia così, perché il mio passato con Warhammer per ora è chiuso, anche se è meraviglioso. Dovrebbero fare la versione digitale. Esatto, esatto. Giochiamo a 10.000 punti, anche se per la versione digitale Warhammer ci vogliono 100 puntate, perché poverino, credo che sia il brand più violentato digitalmente in assoluto, perché ci trovano mille case e nessuno riesce a cavarne un gioco, un tipo di gioco bello. Sì, perché hanno tentato di fare dei giochi di ruolo, degli RTS, ma probabilmente dovrebbero cercare di trasporre il gioco. Esatto. Hanno provato mille voti, perché? Perché è un marchio che, e qui ci rialleggeremo a perché Magic secondo me l'ha preso, è un marchio che ha un potere artistico esagerato. Se non conoscete niente, digitate Warhammer, che sia 40.000 o Fantasy, appunto sono questi i due, ma anche Blood Bowl poi viene dall'universo Warhammer, tra l'altro anche quello recentemente, sono ritornato a vedere com'è, ha un potere artistico incredibile. Sì, è innegabilmente affascinante anche solo per guardare le illustrazioni. Ma non solo, ha influenzato per anni e continua a influenzare artisti fantasy o... Sì, e poi l'ha il potere di, non so se mantengano sempre gli stessi artisti o che comunque hanno, secondo me, delle regole, perché non è come Magic che salti da uno stile artistico all'altro completamente, cioè ti ritrovi sempre, tu guardi un'immagine e sai subito che è Warhammer. Sì, c'è una consistenza, c'è un lavoro... Una linea guida, o hanno degli artisti che mantengono da anni, ma hanno uno stile veramente riconoscibile, questo per me è incredibile, perché sono passati tutti questi anni, che tu voi prendiate un manuale degli anni 80, 90, ne prendiate uno oggi, e riconoscete subito gli orchi fatti da Warhammer, non sono gli orchi di qualunque altro brand. E' incredibile, incredibile. E quindi, insomma, questo è un brand che magari non conoscete, che viene da un gioco da tavolo, che ha molteplici videogiochi, che torneremo ad analizzare. Brevemente vi posso dire che di successo sicuramente l'ultimo che ce l'ha fatta è Vermintide, non so se tu l'hai visto, Fili. Non l'ho ancora visto. Di fatto è Left 4 Dead, sai il gioco Valve famosissimo di zombie cooperativo, ed è identico, ed è fantasy. Figo, molto figo, devo informarmi. Ed ha avuto successo, l'ho provato, e la cosa più bella del gioco, dopodiché passiamo ad altro, è il senso di impatto dell'arma. Cioè a me ha stupito, intanto è solo cooperativo, quindi vi deve piacere Left 4 Dead, vi deve piacere giocare... Minchia, quel teore ci ho perso con Left 4 Dead. Stessa cosa, la stessa identica cosa, però ha il potere incredibile, a parte la grafica e aver preso il mondo di... Prende in particolare gli Skaven, quindi la parte, la razza dei topi di Warhammer Fantasy, gira tutto lì intorno, ma ha questa cosa incredibile di darvi l'impatto dell'arma sullo scudo, sul corpo del nemico, cose che gli altri videogiochi spesso... Cioè, tipo, per intenderci Skyrim, sembra di impattare l'aria, ecco. Diciamo che, ecco, argomenti che tratteremo in altre puntate, ma vogliamo dire quanto fa cagare il motore grafico di Fallout Skyrim. Poverini, noi continuiamo perché siamo appassionati, ma... No, dal punto di vista tecnico è imbarazzante, Betesca. Esatto, esatto. Eh, anche lì ci arriveremo, vedi, vi abbiamo dato tanti piccoli spoiler e spunti. Ecco, approfitto per dirne che, dire, scusate, che queste sono ovviamente le nostre opinioni, e io la mia e Finkberg ha la sua. Se non concordate, scrivetercelo qui nei commenti, con educazione, noi siamo apertissimi al dialogo. Per esempio, io ho citato Vermintide, ovviamente non stiamo ad analizzare anche i problemi del gioco, sicuramente di tutti i brand. Di tutti quelli che hanno provato ad usare il brand di Warhammer, e ce ne sono veramente dal cellulare fino a... Non so, veramente centinaia di titoli, poverini hanno preso, e questo sono sicuro che è uscito bene. Poi, all'insu interno, la sua community si lamenta di cose, ovviamente, ma come tutti quegli specialisti del titolo, insomma. Noi vi diciamo la macro notizia, ecco. Su quello ve lo potete andare sicuro, che se volete provare una serata andate tranquilli, che è un buon gioco. E però, Magic non ha preso la parte fantasy di Warhammer, e questa è la parte ancora più curiosa della storia, ma ha preso la parte futuristica. Esatto, perché ci sono due brand, uno fantasy, che si sarebbe, diciamo, legato abbastanza bene con Magic, e l'altro invece è ambientato nel 40.000 dopo Chris. E quindi, completamente, Space Marine, diciamo Alien 2, per farvela semplice. Sì, ci sono delle robe assurde, astronavi, marine ultra corazzati, con fucili a plasma, cannoni laser, orchi, perché ci sono anche gli orchi, però, diciamo, è molto spicy Warhammer 40.000, perché è molto originale come ambientazione. E anche il gioco, ragazzi, io a suo tempo passai dal fantasy al 40.000 credendo di, semplicemente, di cambiare skin. In realtà si sono studiati, ovviamente, essendo che ci sono le armi da fuoco, ed essendo che è il futuro, quindi non avete più truppe numerosissime, se non per gli alieni, diciamo, che si affrontano, ma avete marine corazzate, armi di fuoco, quindi anche nel gioco da tavolo le regole sono completamente diverse. Sono due giochi che hanno comunque una consistenza grafica, perché comunque l'arte più o meno rimanda una all'altra, anche se sono due mondi diversi. e quindi perché Magic si è andata a prendere, è andata a cercarsi il cosiddetto freddo per il letto, non capiamo come voglia forzare, in un gioco bruttamente fa cosa che ha preoccupato, ovviamente, i più attaccati al gioco, ma tornando sempre al discorso generico, insomma, è andata a prendere un brand, quindi completamente diverso, per portarselo in casa. Questo è l'aiutarsi a vista da, non lo sappiamo, insomma, se le ipotesi nostre sono... Un'ipotesi che magari costi meno i diritti di 40.000 rispetto a quello fantasy, potrebbe essere quella. Un'altra ipotesi è che Magic voglia espandersi anche verso prodotti, cioè mondi futuristici. Ecco, questo potrebbe... Introducendo magari armi da fuoco, astronavi, cellulari... Sì, di fatto che sappiamo Magic è un multiverso, quindi potrebbe spiazzare tutti e passare da un'altra parte, insomma, uscire dal fantasy. Se guardiamo, Caladesh è un mondo molto avanzato da quel punto di vista lì, per i standard di fantasy di Magic. Quindi potrebbe essere che ci sia nel multiverso anche mondi futuristici. Esatto, esatto. Oppure che non sia una scusa per... Perché di fatto non hanno dichiarato, a differenza di Signore degli Anelli, che cosa ci vogliono fare con questa collaborazione. Io ho sentito Deck Commander che comunque potrebbero, per chi non sa, è comunque un mazzo già precostruito che usa la regola di Magic e le cambia leggermente, quindi se fosse così avrebbe un senso. Rimane... Magari creano un paio di deck, si possono affrontare uno con l'altro e magari ti dicono che non tutte le carte sono legali negli altri formati. Non sappiamo. Oppure potrebbe essere che è una scusa per Warhammer per trovare finalmente il suo gioco di carte, perché anche Warhammer, dopo aver tentato tanti videogiochi più fortunati e meno, ha tentato anche che io sappia vari giochi di carte senza fortuna se non nel collezionismo, probabilmente, insomma. Quindi, che sia la scusa per Warhammer. Diciamo che in teoria, sulla carta, da un punto di vista da business manager, è una situazione di win-win, di vittoria per tutti, perché il pubblico di Warhammer entra in Magic e il pubblico di Magic entra in Warhammer. Sì, perché diciamocelo, insomma, quelli che i puristi di Magic che se la prenderanno saranno, intanto compreranno lo stesso il prodotto, perché conosciamo, Magic conosce i suoi acquirenti e anche chi fosse così ferreo da mollare, diciamo, non credo che rappresenterebbe per Hasbro o per Wizard, insomma, la perdita che invece gliene porterebbe l'avere introdotto una novità, insomma. Sì, bisogna vedere se si limita a essere solo carte di Magic con la skin di Warhammer oppure meccaniche pensate proprio per sfruttare il brand, capisci cosa devo dire? Se è solo un'operazione commerciale o c'è anche del design indietro. Perché, come dicevo prima, se mi introduci le armi da fuoco come tipologia di carta, come equipaggiamento arma da fuoco, potrebbe avere un senso. Potrebbe, sì. Se invece prendi un 2-2 vaniglia e ci metti la skin dello Space Marine lì è un'operazione un po' fina a se stessa. Sì, sì. Oppure potrebbe essere cioè, analizzando anche un pochino più a fondo sempre speculando il brand secondo me riesce anche a togliere le armi da fuoco diciamo da una buona parte di tutto il blocco di 40.000 ecco. Andandoci un pochino soft secondo me perché comunque ricordiamo è un brand che viene dal fantasy quindi ha una visione davvero particolare se non conoscete Warhammer andatevelo a guardare quindi diciamo che il marina ha sempre la spada in mano ha questa spada catena simbolo diciamo di Warhammer ha sempre una versione un po' gotica del futuro diciamo è una fusione fra fantasy e fantascienza e visto che chiudo con questa cosa perché stavo diventando pazzo e non riuscivo a trovare il titolo quindi mentre parlavamo ti giuro stavo diventando matto il film che vi dovete vedere è Starship Troopers lo spero che l'abbia visto fanteria dello spazio io voglio leggere il libro voglio leggere il libro io non so se quello ha i diritti di Warhammer ma è la stessa cosa è identico anche come look degli alieni è proprio identico quindi io bisognerebbe analizzare a fondo secondo me c'è un qualcuno è uno dei miei film preferiti anche se può essere considerato un film trash ma non è così trash come sembra il primo poi io spero che tu non abbia visto anche il secondo o il terzo io sono arrivato fino al terzo ed è sempre un escalation in discesa poverini seguendo il budget perché al contrario degli altri film che hanno successo e il budget si alza per loro è andato al contrario il budget si alza esatto esatto comunque il primo ragazzi vi vedo è del 97 Starship Troopers è da vedere questo è il link che vi metteremo sicuramente a parte se riusciamo magari qualcosa di macro su Magic cosa è Magic e su cos'è mi raccomando ragazzi se volete sapere cosa è Magic c'è il mio canale Magic Malgiocato per imparare a giocarlo male così esatto dovete trovare questo podcast anche su Discord dove c'è la nostra community dove potete scambiare opinioni anche mandarci direttamente il commento così come lo potete fare su YouTube abbiamo dimenticato di ricordare di seguirci e di mettere like insomma le solite cose appariranno poi i vari click i vari remember subscribe vi bombarderemo ragazzi perché dovete per mostrarci che appensate quello che facciamo anche perché le più bollenti le teniamo per quando abbiamo più seguito insomma dobbiamo dobbiamo iniziare in qualche modo ci sono dei vari goal da raggiungere d'accordo ho parlato da Phil e da Thinking Starship Troopers è il consiglio della puntata sicuramente sì anche ecco come la sigla no scusa la sigla la colonna sonora è anche galvanizzante di Starship Troopers e il finto ha delle chicche questo film ma anche chicche filosofiche io mi chiamo filosofia non a caso e ci sono veramente delle chicche filosofiche e vi faccio un piccolo spoiler è ambientato in un futuro dove c'è il fascismo possiamo dirlo praticamente c'è una visione della democrazia come qualcosa di debole e dove chi può votare è colui che fa del servizio militare quindi solo i militari possono accedere al voto e sono considerati cittadini e e ci sono questi alieni che non è che sono pensanti o almeno non si pensa che siano pensanti che sono tipo dei ragni delle manti sono esattamente 40k è identico e ci sono proprio mandano questi ragazzi giovani che sono convinti di diventare cittadini tutti a morire praticamente perché è un massacro un massacro ci sono veramente delle scene gaillarde da vedere insomma e non spoileriamo il resto insomma gran film gran film e tornando a noi la seconda collaborazione che Magic vuole fare non è così di nicchia come per fortuna siamo riusciti ad analizzarvi sicuramente alcuni di voi magari non sapevano che cos'era Warhammer ma saprete sicuramente tutti cos'è il Signore degli Anelli eh sì eh sì chi non si è visto il Signore degli Anelli chi non si è fatto la maratona completa di nove ore esatto io l'ho fatta no forse voi non siete così malati come me ma io mi sono messo al mattino ed era sera quando ho finito ed ero un cadavere non si è mai fatta li ho sempre visti poi normalmente spezzati ma li ho visti sicuramente al cinema e poi a casa ognuno pensa ecco però diciamo prima del film potevamo anche dire che non tutti avreste conosciuto che cos'era il Signore degli Anelli eh di fatto è stato il primo fantasy che ha sfondato al cinema perché se ricordo i ricordi che ho di altri film fantasy possono essere Willow o cose davvero che oggi potremmo dire labyrinth robe di nicchia nemmeno fantasy pure diciamo c'era Pantaghiro eh Pantaghiro non lo si può nemmeno citare è una roba che c'è passa il trash credo c'era Pantaghiro oppure Lady Hawk te lo ricordi Lady Hawk Lady Hawk molto bello tra l'altro scena di Lady Hawk sono state girate qui proprio a una trentina di chilometri da dove sto io sì il castello il castello è stato preso qui infatti mi pare che ci sia la scena con l'antenna è la scena famosissima dove dove si vede è rimasta un'antenna da qualche parte comunque anche questo ve lo possiamo di quelli che abbiamo citato sicuramente è incredibile Lady Hawk molto bello e però insomma il Signore degli Anelli vi ha portato il fantasy quello con tutti i cani perché anche Lady Hawk non è il fantasy è medievale il concetto un po' più di medievale con qualche mago quindi la maledizione l'incantesimo ma non c'è ancora il concetto del Signore degli Anelli che poi alla fine dovrebbe essere appartito da lui ovvero delle razze fantasy come noi appassionati conosciamo di un mondo mondo parallelo al nostro se vogliamo esatto in cui ci sono razze ma c'è la magia come concetto e e lui è un esempio classico è Dungeons & Dragons che anche lui aveva provato c'è deve essere un film da qualche parte anni 80 90 trashissimo esatto e il Signore degli Anelli ce l'ha fatta invece è riuscito e quindi anche chi ci ascolta e non non è appassionato fantasy né di giochi di ruolo e niente sicuramente si è visto o si è fatto trascinare vedere questa opera titanica sì comunque è rimasto anche se non vi è piaciuto è una qualcosa di pop pop esatto tutti conoscono tutti sanno identificare il personaggio se vi metto una foto di Aragorn lo identificate subito ci sono stati vari meme di Aragorn che seguitemi ecco l'anello il concetto di anello del potere che ti corrompe incredibile chissà se Tolkien avesse saputo che un film era più potente tra virgolette del suo libro insomma perché comunque Signora Annelli nasce da chi ha visto il film magari non sa nemmeno oppure non ha mai letto il libro insomma che è un'opera titanica non facile da affrontare la tua esperienza come sta con il libro faticosa devo essere sincero ammetto che non è uno dei miei libri preferiti è un libro che ho letto e poi non l'ho più riaperto anche per me io apprezzo tutto quello che ha portato sicuramente però quelle cento pagine iniziali ragazzi sono io le ho dovute riaffrontare tre volte due o tre volte prima di andare oltre e di riuscire a godermi il resto non è molto scorrevole non è pensato probabilmente per essere un libro di intrattenimento è una specie di fantasia come posso dire lui che si auto attenzione che qui ci cassiano ok diciamo si fa i muscoli no flexa io sono professore di inglese no storico e quindi faccio vedere quanto ne so esatto e qui ci siamo bruciati a resto del podcast alla prima puntata insomma ragazzi se non ragazzi ha scelto e in più ha scelto come protagonisti adesso allora partiamo da un breve concetto a cui tengo quando tu guardi un film o leggi un libro o affronti un videogioco tu ti vuoi impersonificare adesso magari a una certa età lo vedi con un altro occhio lo vedi come un'opera però quando sei più giovane insomma mio figlio i bambini i ragazzini tutti quando hanno un eroe vogliono essere quell'eroe voglio brandire la spalla due mai chi vuole essere un hobbit con i piedi grossi e che non sa ma la pena usare un coltello è difficile riuscire a aver scelto quello come eroe ecco questo è la mia quello che mi ha fermato dal vedere e poi l'epicità che in realtà c'è perché se poi analizziamo il concetto cioè quello che c'è dietro adesso ve lo spoiler però ragazzi se non l'avete visto siete un po' indietro stiamo qui a dire che è top ecco dove avrete vissuto su Marte fino a comunque il concetto quello che c'è nella storia è che anche una persona piccola debole può trovare il coraggio supportato dai suoi amici chi lo ama a fare la scelta più difficile a fare la cosa più è tutto un viaggio di questo hobbit debole che porta questo peso immenso ma è l'unico che può portarlo perché gli altri cederebbero al potere che questo anello dona sostanzialmente è quello il problema è che fa parte di una razza di cui l'autore vuole raccontarvi qualunque cosa quindi l'hobbit è un nano sostanzialmente fattezze umane però altezza metà di un uomo sostanzialmente come un bambino piedi pelosi questa era la caratteristica fondamentale il saluto prende in giro alla fine dalla sua stessa descrizione perché mangia più volte al giorno non è adatto all'avventura se ne sta nel suo villaggetto nella sua regione diciamo e non si va a cercare guai ecco questo sicuramente è un mondo a parte la contena degli esatto di aver avuto più coraggio degli altri della sua razza però insomma diciamo che Fila è un eroe a tutti gli effetti ma un lettore è difficilmente a mio avviso insomma vuole impersonificarsi in questo eroe e comunque il film ve lo ha portato a tutti tagliando le parti magari più descrittive ecco il film visivamente penso che sia la migliore rappresentazione possibile non la più fedele ma la migliore assolutamente esatto ci sono scene memorabili nella filmografia secondo me che ti rimangono impresse e hanno dettato lo standard per tutti i film che sono venuti dopo obiettivamente io speravo che ci fossero più fantasy dopo cioè più fantasy classici in realtà non ha portato io l'opera fantasy dopo più più bella diciamo che ricordo e però la citiamo e basta è stato credo il trono di spade che però è più medievaleggiante insomma no sì c'è di tutto perché alla fine anche lì ci sono draghi zombie però io vorrei un tipo di modo di raccontare la storia come Games of Thrones ma con più magari razze voglio un modo crudo di raccontare la storia meno bambinesco però magari con gli elfi non so hanno provato hanno provato citiamo il suo grande antagonista che è il ciclo di Shannara hanno provato c'è la serie tv di Shannara tra l'altro mi ha mi ha scioccato tra virgolette credo che sia andato in porto solo la prima serie e poi credo che sia fallito non era malvagio ma io ho letto Shannara molto giovane ho letto Shannara prima di Signore degli Anelli perché mi è capitato tra le mani ed era di più facile utilizzo nonostante fosse diviso in sette e più volumi e ho scoperto adesso con il mio grande shock che Shannara è un mondo elfico quindi un mondo fantasy classico ma ambientato come se venisse dopo il nostro mondo cioè almeno nel film ci sono i rottami delle macchine e delle automobili tipo post apocalittico sì esatto ma non me lo ricordo questa cosa dai libri quindi sono ancora scioccato tra non capisco se è una cosa che si è presa il telefilm ma dubito o sono io che appunto mi sono perso questi dettagli nel libro che magari erano citati in maniera più più soft non lo so infatti sono molto una buona scusa per recuperarsi il libro quindi sono tanti leggetevi cercatevi il miglior ordine in cui leggerli perché purtroppo sono quelle classiche serie di romanzi che se ti piacciono sei contento che ci sia tanta roba ma se li vuoi recuperare in fondo devi capire quale leggere prima di sì non è semplice e non è semplice scegliere l'uscita originale andare in quella per temporale insomma è un po' come guardare oggi capire come guardare oggi i guerre stellari sono quei dire sì ragazzi non si guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 guarda 4, 5, 6 1, 2, 3 e non si guardano quelli nuovi 7, 8, 9 quelli no sono per tenare come noi dai insomma non lo sappiamo comunque morale e Magic si è andata a prendere questo grande marchio che merita merita uno speciale un giorno lo faremo magari ridiremo alcune cose ma ci sono tantissime anche lì videogiochi ne hanno fatti una marea giochi da tavolo giochi di carte cartone animatore chicca che non ve la spoileriamo ce la teniamo per per chi non lo sa e però si è preso questo grande marchio quindi Magic in questo caso a differenza di Warhammer secondo me avrà degli acquirenti esterni che se lo troveranno sbattuto in faccia da quando avrà qualche pubblicità e che compreranno secondo me senza sapere nemmeno che cosa è Magic correggimi se sbaglio ma non c'era anche un gioco di carte del Signore degli Anelli? sì ma sicuramente anche forse più di uno come anche i giochi da tavolo so che l'ultimo se uno cerca l'ultimo su un qualunque sito sicuramente è venuto è uscito bene che io sappia come recensioni ma giochi di carte credo che ne abbiano tentati a occhio però a memoria comunque l'universo fantasy classico del Signore degli Anelli si sposa abbastanza bene con Magic diciamo un matrimonio più facile ecco sicuramente e dalle indescrizioni si pensa che sarà proprio un set sì quindi in questo caso si andrà a prendere proprio un blocco intero del gioco e non è una cosa nuova perché come non l'abbiamo detto all'inizio della puntata ma tra poco fra due set uscirà Dungeons & Dragons quindi dei set chiusi ambientati in mondi diversi ci aspettavamo diciamo che Dungeons & Dragons è ancora più sinergico perché di fatto è un po' come se fosse il manuale del fantasy di chiunque voglia fare una cosa Dungeons & Dragons è un gioco che è un gioco di ruolo anche lui poi si è fatto i suoi vari sotto brand però di fatto oggi potrebbe essere la bibbia per fare una qualunque opera fantasy se tu non sai niente del fantasy vuoi iniziare a fare un fumetto un libro un gioco o qualunque cosa ti guardi Dungeons & Dragons ti prendi un manuale e conosci le razze e cominci a sapere come sono fatte e tutto il resto quindi con Magic non hai adesso io magari potrei dire una stupidata ma non so se ci sono grandi personaggi di Dungeons & Dragons sì forse dalle opere dai libri tipo Dritz credo che nasca da Dungeons & Dragons ci sono alcuni personaggi sì però in sé il marchio D&D puro diciamo è quello neutro secondo me è più uno scheletro sostiene un'ambientazione e uno scheletro in manuale ti fornisce quello ci sono poi i vari mondi Forgotten Rands Night Winter Night e quelli possono avere i loro personaggi hanno i loro personaggi hanno i loro romanzi ma se uno dice D&D puro a me viene in mente semplicemente il come è fatto cioè dimmi come devo costruire un mondo fantasy e quindi non mi mi aspetto che possa funzionare alla grande con Magic anzi e il problema di Signore Ali sarà se come con l'espoa di Walking Dead vada a prendere proprio i personaggi precisi li prenderà con le fattezze del film li prenderà con fattezze originali perché anche lì c'è da fare tutto un discorso perché i diritti del film sono ci sono i diritti dell'opera poi ci sono i diritti del film quindi tu puoi comprare i diritti originali però poi non puoi usare la faccia di Viggo Mortensen che è l'attore di Aragorn non lo sappiamo non lo sappiamo quindi magari io ipotizzo anche però qualcuno mi ha detto che sarebbe una stupidata che prendano il Signore degli Anelli senza prendere esattamente Gandalf per esempio magari mettere il Mago Grigio che ne so e tra l'altro è morto l'attore che faceva Gandalf o era molto il doppiatore non ho seguito non ho seguito però non sappiamo come faranno per esempio il set che c'è oggi che c'è in corso è diciamo anche questo abbastanza innovativo perché è metal vichingo diciamo quindi sia musicalmente che e già qui abbiamo fatto vedere la mossa commerciale insomma il marketing che è cambiato molto all'interno del gioco e anche qui gli dei nordici non sono presi papali papali con i loro nomi originali giusto si è un'interpretazione della mitologia norena quindi hanno creato il loro panteo ovviamente sono ispirati ma sono e io dentro di me ho detto perché non farlo anche col signore degli anelli nel senso tu prendi il signore degli anelli ma non c'è bisogno che te la vai a cercare diciamo mettendo Frodo magari puoi mettere gli Hobbit che si chiamano un altro nome si chiamano Giovanni Francesco e Franco oppure il portatore dell'anello io farai più una roba del genere no? una roba dove c'è lui di spalle che ne so ecco una saga dove c'è lui che parte crea una pedina uno uno Hobbit così dovresti fare io lo farai in modo parecchio intelligente facendo così tu hai bisogno comunque dei diritti perché non puoi fare le scamotage ma però faresti contenti tutti secondo me perché chi è appassionato del signore degli anelli non ha bisogno secondo me che ci sia scritto Frodo e il giocatore di Magic invece sarebbe contento proprio di non vedersi scritto Frodo ma di sentirsi più nel suo mondo ok? quindi trovare una razza e non un personaggio con un nome o un cognome ecco bisognerà vedere come la 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 gestiranno perché lì si vedrà anche che effetto farà poi magari ci abitueremo subito a giocare con Frodo e lo Space Marine e Godzilla e Harry Potter tutti insieme nello stesso mazzo però diciamo che io sono favorevole a qualunque cosa c'è chi ci fa i meme ho visto meme incredibili dove Power Ranger qualunque cosa allora secondo me qualunque cosa fa bene al gioco nel senso le regole comunque sono quelle che fanno il gioco e portare più giocatori porta più più soldi e porta a noi un gioco più lungo e più vivo perché di fatto secondo me perdi solo i puristi in strada se ti ampli a nuovi marchi e poi insomma una volta all'anno credo che sia già la cadenza perché sembrerebbe questo l'idea che ci vediamo è uno sporcare il gioco con qualcosa che non so vedremo secondo me la chiave è 40k scoprire cosa faranno lì ci farà vedere quanto osano sì diciamo che Asbo come dicevamo all'inizio che è la multinazionale che possiede Magic Wizard che è la casa di Magic ha detto che vuole quintuplicare i guadagni di Magic nei prossimi cinque anni sì lo vuole tirar via dalla nostra piccola angolino perché di fatto non è ancora credo così mainstream da essere conosciuto ovunque poi hanno annunciato un anno o due fa una serie tv basata su Magic che andrà in onda su Netflix non abbiamo più saputo niente quindi c'è un chiaro obiettivo di portare Magic proprio mainstream c'è anche il nuovo gioco che deve uscire che di tutte le mosse vedo quella un po' meno azzeccata per semplicemente non lo so forse perché non hanno meno non mi sembrava che abbiano preso un team di sviluppo super conosciuto e dai trailer che si vedono non mi sembra il gioco che spopolerà però spero di spogliarmi è un gioco di nicchia ecco come i giochi per cellulare ci sono un sacco di giochi per cellulare di meggi il progetto è nato in un momento dove c'era un'idea di marketing diversa credo che oggi con le scelte che sta facendo così azzardate avrebbero dovuto prendere un grande studio e fare un'opera colossale che possa essere un MMO piuttosto che un GDR insomma questa roba perché io non so come definirlo questo videogioco da quello che ho visto mescolare carte con una specie di diablo io non lo posso già vedere così a me devo essere sincero mi ispira voglio provarlo speriamo tu che sei informato perché voi non sapete Finchimber lui è esperto di free to play open beta e dove trovarle allora tutto è successo in realtà è nato non tanto dai free to play ma dagli cioè quando sono nati i primi indie io sono rimasto affascinato dal poter partecipare all'alpha di un gioco ne parleremo magari di una puntata dedicata ma di poter ci sono alcuni giochi in cui ne abbiamo uno ciascuno secondo me molto molto a cuore il tuo è Seven Days to Die il mio è stato oddio me lo sono perso quello della neve ok mi viene in mente della neve oh signore sì è survival nella neve adesso Frostpunk no 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 viene prima comunque lasciamo perdere poi ci arriveremo questa mia brutta figura se lo ritrovo però lì ho partecipato anche lì il problema è che ho partecipato tanto all'inizio poi quando il gioco è stato reso pubblico ormai ne avevo talmente pieno di aver provato tutte le varie build ma è un discorso da fare a parte insomma siamo arrivati qui perché perché sì da lì mi sono appassionato e anche il free to play mi ha scioccato insomma ne parleremo e il mio free to play di eccellenza da portare ovunque è Pad of Exile che insomma a un certo punto ti fa sentire in dover di dargli qualche soldo cioè tu giochi dopo cento ore e dici ok ma i soldi quando me li chiedete ragazzi cioè qui c'è qualcosa che non mi ha mi ha stupito fa parte dei modelli virtuosi di free to play magari faremo una puntata dedicata a quelli perché non è da demonizzare il free to play ci sono tanti esempi negativi è da può essere una trappola insomma merita una subondata perché è davvero un mondo intricato sicuramente che ha benefici ma anche tante trappole loot box loot box abuso del free to play è sbagliato e chi invece ha fatto free to play puro ha dimostrato che lo si può fare e che si può campare di solo di solo estetica è incredibile ha cambiato credo il mondo dei videogame per sempre ne parleremo dai e perché credo che tu mi volessi dire che sarà free to play giusto questo gioco di magic che fa un po' entrerà in beta open beta ci dovremmo essere ma a me non allora sembrerebbe un arpg giusto un visuale dall'alto un volo d'uccello tipo part of exile o diablo per intenderci esatto ma il problema è che hanno voluto mantenere questa cosa che ti devi creare il deck e quindi perché i diritti di magic non avrebbero avuto senso sarebbe stato un altro gioco io avrei adesso non voglio sempre avere la soluzione per tutto però magic è un mondo così grosso che io mi sarei contentato di fare un rpg prendendo le razze proprio facendo non so i vari ti faccio combattere contro krenko dopo aver fatto fuori tutti i vari goblin eccetera eccetera avrei fatto più una cosa così e invece qui forse il mazzo gli serve anche per il free to play perché secondo me quelle carte le dovrai sbloccare in un modo adesso dirò una cosa impopolare magic ha una lore ha una sua lore molto grande molto profonda tra virgolette però in sostanza non è che ci sia tutta questa gran storia dentro tutti questi gran personaggi la maggior parte dei giocatori non la conosce questa lore ma credo che loro stessi all'inizio non lo volessero fare insomma non lo so non so come sia nato da quando non sono convinto che nei primi set già ci fosse tutto scritto nelle carte nei titoli nelle immagini delle carte non lo so secondo me non lo sapevano neanche loro ci sono parecchi libri legati non ai primissimi set alfa beta arabian nights diciamo a partire da quando compare urza c'è tutta la saga di urza e quindi insomma non è come warhammer che parte prima da qualcuno che ha scritto il mondo io credo che magic però anche qui ci prendiamo la libertà di essere smentiti sia nato come gioco di carte basta mentre warhammer è nato con prima mi scrivo tutto mi creo un romanzo tra virgolette e poi dopo ci creo il gioco intorno poi quello che ha fatto funzionare il gioco è stata comunque l'estetica perché tu racconti una storia anche con l'arte se tu prendi una qualsiasi carta di magic è un quadro è un quadro che ti racconta una storia e quello probabilmente secondo il mio modesto parere è quello che nel tempo ha fatto sì che magic arrivasse dagli anni 90 fino ad oggi e le sue regole che credo che siano quelle e le regole perché non so come abbia fatto già negli anni 90 avere un regolamento del genere e a mantenersi nel tempo perché è incredibile oggi ci lamentiamo dei ban ma se pensiamo tutti questi anni come abbiano fatto a intersecare le carte a mantenere comunque bilanciato il tutto insomma se uno che non segue il meta diciamo e si vuole solo giocare a magic io credo che non si accorgerebbe di niente no? gli dai due mazzi fatti bene da battere uno contro l'altro e se sono equilibrati può essere qualunque formato di magic che le regole vincono è incredibile che siano rimasti tutti questi anni quella è la cosa vincente però le arti sono incredibili oggi più di prima io non sono uno di quelli che vuole tornare al vintage devo essere sincero devo essere sincero le arti vecchie hanno la loro fascino la loro nostalgia ma preferisco mille volte quelle nuove non le cambierai mai io le nuove anche il borgo vecchio non so se hai seguito come Time Spiral che è un set rimasterizzato hanno fatto delle carte speciali con il bordo vecchio anni 90 di magic ecco meglio quello nuovo esatto io sono in questo caso il progresso artistico ha fatto passi veramente anche per la stampa non so immagino che anche i costi di allora fossero diversi magari vuoi mantenere un costo contenuto ma è come tutte le cose così come se andiamo a rivedere un telefilm di quegli anni è completamente diverso credo che abbia seguito come la moda come la musica come tutte le cose ha avuto un influsso diciamo come tutte le cose artistiche è cambiato quindi oggi prendere una carta di allora è vintage a tutti gli effetti anche se lo prendi in quanto pezzo di come prendere un fumetto la stessa cosa identica ha subito il suo cambiamento nel tempo si è voluto ma esatto abbiamo usato magic magic per rompere il ghiaccio e di fatto in realtà il succo era che c'è questo mash up di cose questo questo mescolamento di arti e di e di brand in corso che può essere lì come può essere in qualunque altro marchio che si che vogliate magic come Warhammer signore di anelli rappresenta un modo di non scappare dalla realtà ma staccare dalla realtà e andare in un mondo dove puoi essere chi vuoi sostanzialmente vivere nelle tue avventure quindi un po' come questo podcast parleremo di tutte queste cose qui di ecco un gioco di ruolo si è il nostro dungeon quello che ci piace quindi come avete visto siamo riusciti a portarvi dei film a portarvi degli esempi di giochi se avessimo voluto continuare a parlare di videogiochi legati a questi tre brand ne avremmo per altre dieci puntate e così come il free to play insomma c'è tantissime cose e possiamo chiudere sempre per il nostro cerchio che vorremmo darvi un po' tutto con la musica io non posso che pensare subito i men war ecco mi ricordo da credo la band più fantasy cioè loro credo che vogliono essere dentro di loro proprio dei guerrieri mi fanno morire mi fanno proprio l'estetica che è stata ripresa sostanzialmente anche in caldain quindi sono proprio azzeccati esatto chissà se stanno giocando a caldain loro non lo so però ecco oggi ve li perdereste ma allora prendere un loro album aprirlo e trovare queste i loro libri diventavano dei poster immensi immaginatevi un cd che quindi quanto è 15 cm per 15 cm una cosa del 20 per 20 foglietti pieghevoli con 50.000 facce nel libricino con i testi vi usciva un poster di loro con amazzoni seminude loro spade giganti ecco se posso dire una cosa per quanto riguarda l'arte che si è evoluta diciamo che è diventata un po' più casta da un certo punto di vista è vero perché oggi devi stare attento a tutto insomma vorremmo un po' più di tette io mi prendo di guardare di dirlo sì quella era proprio l'arte di Conan Conan ecco una puntata su Conan dobbiamo fare Conan sì tra l'altro ho una mezza chicca secondo me qui c'è in giro per città e lo posso trovare sono super convinto che io sono di Parma possiamo dirlo tu sei di Torino Torino e secondo me ragazzi a Parma c'è un signore che sono convinto che abbia scritto dei libri di Conan ve lo voglio cercare lo devo trovare questa è la mia missione così lo intervistiamo facciamo una puntata sì lo devo solamente trovare non so se e mi piacerebbe trovarlo anche per sapere se è vero e se come funzionano in questo caso i diritti di Conan cioè se lui è scritto per la saga ufficiale se invece basta che prendi i diritti e poi puoi inventarti tu una tua allora io so che quando è nato Conan lui scriveva Howard scriveva per delle riviste che erano tipo periodiche e scriveva neanche scriveva un libro intero scriveva una storia e poi c'erano altri scrittori che magari riprendevano la sua storia e aggiungevano delle cose un po' come l'Overcraft sì quindi potrebbe essere una varia probabilmente adesso ci saranno dei diritti ma non penso che siano e comunque se non l'hai provato la visione di fantasy gioco come la way to Conan nudo e crudo è il Conan di Play 3 credo il primissimo il primo gioco non l'ho mai provato purtroppo ho giocato all'MMO che purtroppo non era allora se mi trovo a spendere 5 euro e giocarti Conan davvero cioè liberi le donne in catene mi fa morire una roba crescissima proprio ed è però lo spirito anni assoluto è il Conan di Schwarzenegger insomma proprio lui è proprio lui tra l'altro insomma sono state le tue intro ad attirarmi al tuo canale la prima volta insomma dove quel film è un film che vi possiamo consigliare Conan il Barbaro un capolavoro che io considero un film italiano perché è prodotto da De Laurentiis assolutamente non solo è prodotto e non so se è girato o comunque vedi un'intervista di Schwarzenegger dove lui ringraziava tantissimo credo De Laurentiis o comunque un altro italiano che era presente sul set perché è stato lui a credere in lui nonostante non sapesse recitare infatti in Conan nel primo non parla praticamente Schwarzenegger però quel film e gli ha cioè proprio gli ha gli ha detto tu non sai recitare però ci sei non puoi perderti questo mondo diciamo del cinema e quindi ci penso io mi faccio veramente lo sbatti di insegnarti ecco e da lì perché non è un film dove ci sono tantissimi dialoghi lo definire così un'opera vieno tagliati per lui seriamente se andiamo a cercare le chicche li hanno tagliati perché lui non era in grado non era non era credibile probabilmente aveva la presenza scenica quello comunque era lui quando trovi io penso che anche un ragista quando si innamora di un di un attore dice sei tu lo vedi al primo al primo istante faccia di tutto per tenerselo perché comunque abbiamo visto che anche l'ultimo Mad Max si può non parlare ad avere comunque successo insomma Tom Hardy non è che abbia detto molto nell'ultimo me l'ha fatta grossa insomma nell'ultimo Mad Max se non hai niente da dire forse è meglio non dire niente invece noi non seguiamo questo consiglio e parliamo lo stesso comunque vi consigliamo anche questo film quindi vi abbiamo dato un sacco di perle e sul disco vi mettiamo tutti i link troviamo troviamo un modo di darvi tutte queste cose così ve le recuperate sono cose da vedere insomma sono quelle cose tanto da vedere un film di allora vintage a vedere oggi un B-movie è la stessa cosa secondo me no? si ma poi comunque è un film che è invecchiato abbastanza bene cioè si vede con Pim Vecchion però comunque è fatto bene cioè le ambientazioni sono fatte bene comunque c'è sì lì non so se tu a te è capitato cioè se tu riesci a vedere un'opera a cui sei legato dal passato e la guardi oggi e ti risulta ancora bella credo che sia genuina se invece tu hai il tuo ricordo del ragazzino bambino distorto e oggi lo vedi e la vedi brutta significa che è invecchiata male quello cioè per intenderci se io mi riguardo oggi Caviello Zodiaco non riesco più a guardarli ok? no dai con il doppiaggio ultra poetico io mi hanno fatto un effetto strano se invece guardo Conan me la ghigno magari mi diverto ma trovo ancora piacere no? sì e quindi non lo so io è un'idea che mi sono fatto appunto su alcune cose di cui hai un ricordo distorto che non magari è meglio che non te le riguardi nemmeno e invece altre cose che sono ancora fresche cioè che non sono invecchiate bene appunto sì 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 ma direi che abbiamo detto tante cose vale l'entusiasmo della prima puntata è stato quasi uno speciale sì speriamo che anche le prossime puntate siano così io mi sono divertito tantissimo e ti ringrazio di questo lancio di progetto sì sono contento anch'io e speriamo che anche voi vi sia piaciuta la puntata e ce lo dovete dimostrare e per dimostrarlo è molto semplice gratuito allora likeettino un bel like per far capire che di continuare bravi continuate e portateci altre puntate e poi iscrizione al canale specifico di questo podcast su youtube che potete ascoltare non avete bisogno di guardare le nostre facce quindi potete continuare a fare le vostre cose ascoltarci dove volete ecco youtube non aiuta ascoltare in macchina forse purtroppo no però insomma sì ad esempio io quando lavoro e sono a computer mi metto un podcast di diversi argomenti abbiamo creato quello che cerchiamo noi no? sì esattamente perché ti ho chiamato perché abbiamo detto perché io quando soprattutto forse in questo momento storico cerco questo tipo di contenuto e mi tocca abbassare un video ok e quindi chi ha fatto il video si perde tutta la parte contenutistica dei video che io non sto usufruendo allora perché creano qualcosa che non ha bisogno della parte video voi potete abbassare il vostro browser e lavorare e fare le vostre cose magari mentre giocate a Magic Arena no? levate l'audio la musica di gioco e ci ascoltate e noi ci auguriamo di intrattenervi con le nostre chiacchiere i nostri ricordi anche sbiaditi magari però li recuperiamo insomma piano piano e se avete qualche idea suggerimento per delle puntate noi siamo apertissimi assolutamente il Discord stai per quello io spero credo che sia una novità perché ok YouTube è il social in cui noi crediamo ok quindi proprio perché abbiamo cercato questo uso di abbassare il video di ascoltare altri prodotti mentre il disco vuole essere la novità per rendervi più interattivi troverete anche lì le puntate ma soprattutto lì potrete parlare tra di voi con noi e trovare quelle informazioni che qui sono solo a voce che vi potete sia perdere sia interpretare magari velocemente male non vogliamo farvi tornare indietro basta andare a guardare tutti i link di quello che noi crediamo meriti di essere ricordato al termine della puntata hai detto praticamente tutto sono davvero contento di lavorare con te mi semplifichi la vita ma su Discord potete parlare con entrambi quindi siamo lì sempre disponibili vi ringraziamo è stato davvero un piacere alla prossima puntata ci vediamo un po' se posso o spoiler perché dobbiamo scoprire quale sarà il prossimo argomento magari più avanti potremo anche dare se sarà già attivo Instagram molto probabile lì saprete quando uscirà la prossima puntata e magari ci sarà qualche anticipazione magari quando avremo un numero insomma un buon numero anche sondaggi insomma possiamo fare tante cose noi di idee ne abbiamo per un po' problemi non ce ne sono ma ci piacerebbe coinvolgervi sicuro bene io vi auguro una buona serata buon pomeriggio buona mattina e a questo l'ascolto è un po' è un po'